Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, oggi siamo qui per parlare ancora di calciomercato della Roma intanto vi invito a seguirmi su Instagram e a lasciare un bel mi piace perché stiamo andando benissimo, il video di ieri sera di Manolà si è andato stra bene e se non l'avete ancora visto vi invito ad andarla a vedere ve lo lascio comunque nel primo commento insieme al mio profilo Instagram anche lì stiamo crescendo un sacco ragazzi, ci stiamo divertendo un mondo faccio fotomontaggi belli gagliardi come quelli che vedete nelle copertine praticamente nelle miniature dei video altra cosa, nella community su Youtube avevo fatto un post stamattina vi avevo chiesto se volevate anche sentirmi parlare del calciomercato di qualche altra squadra la maggior parte di voi ha votato di sì e quindi tranquillamente parlerò anche del calciomercato di altre squadre ovviamente non del pizzighettone, con tutto il rispetto del pizzighettone però almeno dei top club sicuramente d'Italia e fanculo nel mondo, nel mondo dell'universo possiamo fare qualche video sputato tantissimo questo è quanto, in più in quello stesso posto vi avevo chiesto, vi avevo detto che tra pochissimo tornerà una serie che vi ho fatto l'estate scorsa che è andata benissimo ed è piaciuta a tanti di voi vi invito a indovinarla qui sotto nei commenti, mi raccomando, commentate in tantissimi e niente, oggi piatto ricco micifico, che cazzo è un aeroplano? piatto ricco micifico ragazzi, piatto ricco micifico perché pur volendo potrei eliminare il video di El Sharawi però non lo faccio perché ho semplicemente riportato una notizia che sembra essere atterrata del tutto quindi atterrata, non è decollata, una a terra quindi sembra essersi arenata che quella di El Sharawi a quanto pare El Sharawi non è che non è convintissimo ma chiede il mondo alla Cina un po' come quando Gervinio non voleva andare in Cina dove doveva andare perché voleva un jet privato, una casa, gli spostamenti gratuiti eccetera eccetera invece il buono El Sharawi non solo ha rifiutato i 16 milioni all'anno per tre anni che gli ha offerto lo Shanghai Shagalaga ma in più voleva altri 5 milioni di euro all'anno e voleva scegliere l'allenatore e lo staff tecnico per la squadra cazzo era un coso enorme zanzare andate a cagare voi quindi capite voleva chiedere altri 5 milioni più l'allenatore e lo staff tecnico quindi voleva fare anche il direttore sportivo e il direttore tecnico cose imbarazzanti poi sembra che abbia chiesto anche un set di pentole perché lì in Cina è un po' difficile cucinare se ci sono dei gusti particolari quindi ha chiesto un set di pentole italiano per poter cucinare italiano un bel set ricco, 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 ricco e sempre piatto ricco caro El Charaoui tu hai fatto? è stato uno dei migliori statisticamente parlando dell'anno scorso ma che stracazzo hai fatto? cioè ma veramente stai chiedendo 4 milioni all'anno? 4 milioni? ma chi te li vuole? ma vai via allora io non ero, ripeto non ero contrario all'accessione di El Charaoui io ero contrario all'accessione in quei modi in quelle modalità a quei prezzi che 18 milioni è regalato per uno che ha fatto una buona stagione l'anno scorso comunque che non ha portato a un cazzo di niente quindi il rinnovo con aumento te lo ficchi sai dove e quindi caro El Charaoui vuoi 4 milioni? e vai in Cina te ne danno 16 che cazzo vuoi di più allora? ma seriamente? 4 milioni? con tutto il rispetto per El Charaoui che mi piace ma è un giocatore comunque discontinuo e se io dovessi vendere El Charaoui per prendermi che ne so un Carrasco provare a prendere un Mertens magari ma El Charaoui ciao cioè con tutto il bene che ti voglio con tutto il bene che ti voglio cioè non è che puoi rifiutare la Cina perché vuoi scegliere lo staff vuoi scegliere l'allenatore vuoi un barbiere di fiducia ogni settimana gratis cioè non è come fare a cazzo tuo a me dava fastidio semplicemente la modalità di come veniva venduto il Charaoui cioè a pochissimo regalato perché non abbiamo una programmazione se fosse stato rinnovato se gli fosse stato rinnovato il contratto prima a quest'ora forse l'avremmo venduto al doppio quindi questo è quello che però se chiedi 4 milioni caro mio caro mio stiamo abbassando il monte in gaggi vendiamo di tutto vendiamo vendiamo anche i preparatori atletici tra un po' abbassiamo il monte in gaggi e ti diamo 4 milioni a testo poi mi tenevo mano là se gli aumentavo lo stipendio ma che cazzo di ragionamento è non ho capito quindi dopo la praticamente cessione di Manolas con uno scambio di Avarà vabbè andatevi a vedere il video sembra essersi rallentata la trattativa per Geko anche quindi questo cosa può farci capire? può farci capire che magari adesso per quanto riguarda il bilancio la Roma con la cessione di Manolas può stare un po' più tranquilla e ragionare un attimino per quanto riguarda Geko e secondo me la Roma ha visto tanti video di youtuber romanisti che si sono incazzati per la possibile cessione di Geko ma non per Geko in sé per sé ma perché gli stavamo dando 10 milioni e con tutto rispetto a un bimbo minchia del 2001 quando dico bimbo minchia non è perché lo offendo lui è perché capite il 2001 eccetera eccetera capite? non voglio offendere nessuno però valutare 10 milioni un 2001 che l'anno scorso fa 17 presenze due gol una prima appunto che mi fa due gol caro mio mi vado a prendere Moscardelli dal Pisa che almeno a budo pirouette e rovesciate almeno mi fa divertire anche un po' con tutto il rispetto è un Moscardelli tutta la vita e quindi sembra che la Roma abbia un po' tirato indietro i remi ha detto non è che stiamo facendo una puttanata adesso che abbiamo venduto Manolas magari stiamo un po' più tranquilli e possiamo anche prolungare la trattativa anche fino ad agosto chi se ne frega magari Dzeko viene con noi al caldo a farsi la preparazione magari lo mettiamo fuori squadra quindi chi se ne frega io voglio che sia così voglio che sia così perché il caro Dzeko ragazzi non tutti lo sanno il caro Dzeko ha rifiutato il rinnovo e vuole andare via perché noi abbiamo un proposto il rinnovo a Dzeko quindi ciao caro ha un accordo con l'Inter da marzo io non so perché sto Cristiano abbia giocato titolare pur avendo l'accordo da marzo e io l'avrei sbattuto lì in tribuna a marcire ecco ti ho amato tantissimo ti ho sempre difeso ma sti comportamenti di merda non li sopporto che tu hai campionato in corso con obiettivi ancora in corso ti metti a parlare con altre società mi sta molto sul cazzo sta cosa io non capisco perché non dobbiamo stare tranquilli quanto chiede noi chiediamo 20 milioni che 20 milioni con tutto il fatto che per Iguain che ha un anno in più mesi in più ne chiedono 36 per Mertens che ne ha 32 ne chiedono 32 e perché noi per Dzeko dobbiamo venderla 10 milioni e vergani ma per quale motivo tu se poi vuoi darmi vergani siamo fissati con sto vergani dammene 15-16 e vergani cominciamo a valutare i giocatori per quello che sono vergani quanto lo vuoi valutare te lo valuto 4 milioni come Zagnolo l'anno scorso dammi 16 milioni e mi dai vergani e ti do Dzeko tranquillamente perché Dzeko non lo voglio più non lo voglio più piuttosto gioco con Schick in stampelle piuttosto gioco con Schick in stampelle piuttosto che giocare con uno che non vuole giocare più nella Roma quindi vai a cagare Dzeko eccetera eccetera tra l'altro ieri è uscito è uscita la notizia falsissima che poi vi ho detto anche nel video di Manolasi però a quanto pare era falsa ve l'ho scritto poi sotto nei commenti era uscita la notizia che Vergani avesse rifiutato la Roma notizia puntualmente smentita dallo stesso agente che è Pastorello con un tweet ha scritto voglio puntualizzare che non abbiamo rifiutato la Roma eccetera eccetera quindi questo è quello che è uscito ieri sera poi tra l'altro è uscita stamattina la notizia che è la Roma che non voleva più Vergani ma voleva o Esposito o D'Ambrosio io veramente dopo se dopo avergli preso Sant'Onno gli andiamo a togliere anche D'Ambrosio giuro che vengo a Trigoria e ci scrivo Pinettina perché non è possibile perché non è possibile siamo una correlata cioè non è possibile non è possibile aiutiamo tutti noi siamo fate bene fratelli fate bene fratelli e quindi questo capitolo acquisti perché parliamo incredibilmente anche di acquisti a quanto pare la Roma ha individuato in Bartra il possibile sostituto di Manolas Bartra che sembra essere esploso definitivamente al Betis-Sivilla l'anno scorso ha fatto una cinquantina di partite forse totali ha giocato anche discretamente bene forse sarà lui il difensore che servirà ad impostare l'azione da dietro come chiede il buon Fonsecain e questo è quanto ragazzi vediamo se riusciamo ad acquistare ad acquistare Bartra si è perso un pochettino come giocatore sembra essere sbocciato definitivamente al Barcellona fanno tutti i fenomeni poi vanno altrove vedi Bojan vedi Sanabria tutte queste persone qua e fanno cagare perché in un contesto come Barcellona gioca bene anche questa pietra questa pietra ecco e quindi la richiesta del Betis è di 25 milioni Petracchi sta cercando di abbassare abbassare la valutazione si sta lavorando anche al rinnovo di pellegrini e togliere la clausola perché quel pirla di Monci ha messo la clausola troppo bassa tanta tanta merda ragazzi che dobbiamo aggiustare per quel pelato di brothers e niente ragazzi questo è quanto mi raccomando seguitemi su tutti i social andate a vedere i video vecchi e finito ciao ciao